Il sindaco del comune di Agropoli, Adamo Coppola, tramite apposita ordinanza, ha disposto il divieto di accensione di artifici pirotecnici. Il provvedimento impone il divieto a chiunque di far esplodere petardi o botti di qualsivoglia tipologia in tutti gli spazi pubblici, strade, marciapiedi, isole pedonali, parchi, giardini del territorio comunale e in qualsiasi luogo frequentato da persone. Vietata anche la vendita su aree pubbliche di artifici pirotecnici, non potranno essere venduti inoltre a minori, neppure quelli declassati a livello di gioco pirico. Nel caso di illecito penale scatta la denuncia all'autorità giudiziaria. Nelle aree pubbliche, strade, piazze, è vietato inoltre svolgere qualsiasi gioco o attività ludica che sia di pregiudizio alla quiete, alla sicurezza e dall'incolumità di persone del patrimonio comunale. Inoltre, in occasione del concerto di Anna Tatangelo, in programma il 1 gennaio 2020 in piazza Vittorio Veneto, è vietata la vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici. Tale divieto interessa anche le altre bibite per rasporto, se fornite in contenitori di vetro o materiale metallico. Stop anche alla vendita di spray urticanti. I trasgressori saranno sanzionati con multe fino a 500 euro.